Ma dove sarà? Il mio canarino è volato via. Ma dove sarà? Sotto la gallina? No, c'è un uovo. E dentro l'uovo? No, c'è un pulcino. Ma dove sarà? Nascosto tra le foglie? No, ci sono dei funghi. E sotto i funghi? No, c'è una formica. Ma dove sarà? Sotto il riccio? No, c'è una cacca. E sotto la cacca? No, c'è uno scarabeo. Ma dove sarà? Sotto il tavolo? No, c'è una tazza. E sotto la tazza? No, ci sono delle briciole di pane. Ma dove sarà? Nel baule dei giocattoli? No, c'è una scimmietta di peluche. E sotto la scimmietta di peluche? No, c'è una banana. Ma dove sarà? Nel comò? Nel cassetto? Ecco dov'è il mio canarino. Sta facendo un pisolino. Finito.